Bentornati! Mi ero un attimo esagitata perché avevo visto addirittura l'inception nel video dietro. Bentornati, bentornati all'area show cooking e quest'anno posso dire finalmente anche l'area autoproduzione. Io sono Giulia, sono con voi da stamattina, ma per chi è appena arrivato mi occupo del reparto Cosmesi naturale per il sito macrolibrarsi.it e oggi sono qui con voi appunto a presentare l'area show cooking e autoproduzione per il nono macrolibrarsi fest, nonché il ventesimo anno di macrolibrarsi. Abbiamo parlato di colazione con chicchi fiocchi integrali stamattina con Monia Talenti, siamo passati nell'autoproduzione cosmetica con Patrizia Poggiali, ricette di cucina con oli essenziali davvero particolari insieme a Sonia Vellere, poi Giulia Landini ancora con l'autoproduzione di detersivi e subito prima di Carmen c'è stata De Alma Franceschetti con le salse e i condimenti macrobiotici gustosi, veloci e sani. Ora ho il piacere invece di presentarvi Carmen Ruello. Carmen è laureata in biologia molecolare all'Università degli Studi di Messina e da anni si occupa di medicina non convenzionale. Dal 2010 esercita liberamente la professione di biologa ad approccio sistemico, poi magari ci spiegherai anche che cosa è questo approccio sistemico e ha la passione diciamo non solo perché poi ha messo le mani in pasta e in parte è diventato anche il suo lavoro per l'ecologia microbica, la chimica delle fermentazioni, la fitoterapia e tutto quello che riguarda il microbioma, le disbiosi e le patologie autoimmuni. Oggi Carmen ci presenta come creare degli ecodetergenti efficaci dagli scarti di cucina che normalmente produciamo tramite la fermentazione spontanea. Vi ricordo che siamo online su Zoom e su YouTube e per qualsiasi domanda da rivolgere a Carmen, sia il pubblico qui presente che il pubblico a casa, ci può benissimo scrivere un messaggio tranquillamente su WhatsApp al numero 3-8-8-8-3-4-2-7-7-6. A te la parola Carmen. Grazie, buonasera a tutti. Allora come già anticipato Giulia, noi questa sera vedremo come si può preparare un ecodetergente con la fermentazione spontanea a partire dagli scarti di cucina. Tutti gli scarti di cucina però con una particolarità, non devono essere marcescenti, non devono essere già ammuffiti ma semplicemente quello che noi non mangeremmo perché magari è un po' troppo fibroso. Questo ad esempio lo possiamo utilizzare anche se non è tecnicamente uno scarto ma è integro. Dobbiamo invece eliminare tutto quello che appunto è ammuffito o marcescente, quello va nel compost tradizionale. Per fare gli ecodetergenti invece utilizzeremo, sebbene si tratti sempre di scarti, comunque di scarti che io chiamo nobili, cioè scarti che non hanno appunto delle parti colonizzate già dalle muffe. Questo perché poi con i nostri detergenti andremo a pulire anche le superfici della cucina, i sanitari, tutto quello che normalmente è oggetto di interesse della industria dei detergenti, della grande distribuzione. Questi detergenti fanno un po', cioè riportano alla memoria quello che è il detergente enzimatico ma in questo caso noi useremo la fermentazione spontanea, non aggiungeremo nessuno starter e utilizzeremo esclusivamente come ingredienti acqua, che deve essere un'acqua non clorata, quindi un'acqua eventualmente posta in un contenitore a bocca larga per almeno 24 ore in modo tale che il cloro allo stato gassoso possa evaporare, questo quando ci riforniamo di acqua direttamente dall'acquedotto, che ovviamente per questioni igieniche aggiunge il cloro. Altrimenti possiamo utilizzare, come io consiglio, dell'acqua di fonte, andare ad una sorgente più in montagna e raccogliere l'acqua che serve per le nostre fermentazioni. Poi serviranno, come dicevo, gli scarti della cucina e lo zucchero, che può essere uno zucchero bianco, uno zucchero, diciamo, di quelli completamente raffinati, ma anche uno zucchero di canna sbiancato. Perché io consiglio uno zucchero comunque non completamente integrale come il mascovado? Perché con i nostri detergenti autoprodotti possiamo fare anche il bucato in lavatrice, per cui se utilizziamo uno zucchero integrale, completamente grezzo, senza neanche un minimo di sbiancatura, produrremo nel bucato bianco soprattutto un sottofondo giallino che non piace sicuramente alle massaie, ma che non piace neanche a me che non sono una massaia. Quindi il consiglio è quello di utilizzare uno zucchero, sebbene di canna, che sia parzialmente sbiancato. Prima di passare proprio alla pratica vorrei dirvi alcune parole di introduzione che mi spingono a girare l'Italia proprio per divulgare un messaggio che vada un po' oltre la preparazione degli ecodetergenti o dei cosmetici per l'igiene personale, insomma per la bellezza delle donne, uomini, bambini, ragazzi e così via, o prodotti appunto per l'igiene della casa. E quello che mi preme sottolineare è l'importanza, direi epocale, della fermentazione come strategia per affrontare il periodo turbolento ed incerto che stiamo vivendo e soprattutto per avere una speranza. Io ritengo che ci sia estremamente bisogno di speranza, un bisogno fortissimo di credere che sia ancora possibile un cambiamento in positivo nonostante il mondo ci mandi segnali di catastrofismo, si parla moltissimo di tutto quello che non va, siamo assillati da informazioni che ci arrivano attraverso i giornali, i telegiornali, ma anche le lamentele che provengono da chi abbiamo intorno e sembra che non ci sia quasi più via d'uscita, che non ci sia speranza. Allora per superare il nichilismo che poi porta, lo dico sempre, porta anche ad un impoverimento della flora microbica intestinale, quindi in un circolo vizioso che poi ci porta ad ammalarci, è importante invece coltivare la speranza, speranza nella nostra salute, ancora a portata di mano, speranza nella capacità di intervenire concretamente nella vita quotidiana, è cambiare realmente il mondo attorno a noi, contribuire a questo cambiamento, essere parte del cambiamento. Questa speranza per me è estremamente importante e io confido moltissimo sui microorganismi che sono i nostri, diciamo, più antichi antenati. Tutta la vita sul pianeta dipende esclusivamente dai microorganismi e dalla loro capacità di tessere relazioni, al contrario di quanto i biologi hanno sempre sostenuto, li hanno addirittura chiamati procarioti, li hanno definiti primitivi e anche il regno dei viventi a cui i batteri appunto fanno parte viene chiamato regno delle monere, che è di per sé un termine che indica proprio individui solitari. Invece non sono assolutamente solitari, riescono a creare delle colonie simbiotiche stabili in cui la cooperazione è il motore principale proprio dell'evoluzione ed è stato così fin dall'origine della vita. I microorganismi hanno la capacità proprio di trasformare anche le sostanze inquinanti. Pensate che una delle scoperte più interessanti del secolo scorso, quindi del fine degli anni 80, inizio anni 90, subito dopo l'esplosione del reattore di Chernobyl, una delle scoperte più interessanti del secolo scorso è stata quella che ha permesso ai ricercatori di scoprire, proprio nell'acqua che veniva utilizzata per il raffreddamento del reattore di Chernobyl, che rischiava la fusione, scoprire degli esseri viventi, microscopici, che creavano delle colonie che poi erano visibili ad occhio nudo. All'inizio ci fu sconcerto perché nessuno poteva mai immaginare che a concentrazioni così elevate di radiazioni potesse nascere e crescere e proliferare la vita. Invece è stata proprio una scoperta che ha permesso di comprendere alcuni meccanismi del metabolismo batterico che oggi potrebbero tornarci utili e che aprono veramente le porte alla speranza, la speranza di un futuro non necessariamente che ci vede sconfitti, che vede la vita sconfitta, che ci vede alla fine incanalati verso la strada dell'estinzione. E' successo tante volte nel corso della storia di questo pianeta che siano avvenute proprio delle estinzioni, anche estinzioni di massa, e molti esperti parlano appunto di questo come un periodo in cui si sta proprio verificando la sesta estinzione di massa nella storia del nostro pianeta. Ma non è necessariamente una storia che andrà così. Noi possiamo in realtà ancora invertire la rotta e comunque questa scoperta dei microorganismi ci fa comprendere quanto la vita riesca a trovare delle strade a volte impensabili. Quindi questi microorganismi che sono stati scoperti nelle acque che servivano per raffreddare il reattore di Chernobyl, quindi sono dei microorganismi che si nutrono di radioattività. esattamente come le piante e i cianobatteri, quindi i batteri fotosintetici, si nutrono di radiazione solare. Alla fine si tratta sempre di radiazione elettromagnetica, sia quella della luce visibile che utilizzano le piante per organicare il carbonio, ma anche la radioattività è un tipo di radiazione elettromagnetica molto più energetica, quindi un'energia molto più elevata della radiazione visibile, ma pur sempre si tratta di onda elettromagnetica, di onde elettromagnetiche. Dunque questi batteri, questi microorganismi, perché ci sono sia funghi che batteri, sono riusciti a utilizzare questa radiazione elettromagnetica proprio come le piante utilizzano quella solare e attraverso questa energia riescono proprio a generare nuovi legami chimici. Come avviene proprio nelle piante? Gli scienziati hanno chiamato questo tipo di reazione dark photosynthesis, cioè per ricordare la fotosintesi delle piante, però premettendo questo aggettivo che è dark, quindi oscura, da non confondere ovviamente con la fase oscura della fotosintesi clorofiliana, che è un processo completamente diverso. Dunque i batteri sono in grado di nutrirsi di onde elettromagnetiche e di farlo con le più disparate radiazioni elettromagnetiche, dunque anche con i raggi X. Questo per me rappresenta veramente un motivo di grande speranza per il futuro e studiando i microorganismi ci si rende conto che non solo sono in grado di nutrirsi di raggi X, ma sono in grado di digelire nel tempo qualunque sostanza con cui vengono a contatto, quindi di recente sono stati scoperti i microorganismi che metabolizzano la plastica, quindi che in un ambiente completamente anaerobio distruggono queste molecole create dall'uomo, quindi artificiali, e riescono quindi a convertirle in sostanze che poi possono rientrare nei cicli biogeochimici in modo naturale. Questo non significa che dobbiamo sperare nella biotecnologia e continuare quindi a perpetrare i disastri che stiamo appunto commettendo in tutto il mondo, ma abbiamo una speranza che è quella appunto affidata ai microorganismi, una speranza proprio anche di cooperazione in cui anche noi possiamo fare la nostra parte. Dunque, adesso passo alla parte pratica che è quella insomma per cui voi siete anche venuti qua, è questo tipo di tecnica è molto semplice, è molto elementare alla portata di tutti, tutti possono farla in casa, non è necessario alcuna conoscenza e soprattutto neanche esperienza, cioè veramente alla portata di tutti. Quello che occorre è lo zucchero e bisogna ricordare semplicemente la percentuale di zucchero in confronto all'acqua e in particolare il rapporto bonderale che noi utilizziamo per preparare il terreno, quindi allestire il terreno. In microbiologia si parla di brodi culturali, quando noi diamo un, diciamo prepariamo, allestiamo un terreno liquido, parliamo di brodo culturale, quindi l'allestimento di questo brodo culturale è molto semplice perché c'è bisogno soltanto di zucchero e acqua e le proporzioni tra zucchero e acqua sono di 1 a 5, quindi significa che per ogni litro d'acqua ci vanno 200 grammi di zucchero. 1 a 5 significa 100 grammi su 500 ml. E dunque questa è la dose che noi utilizzeremo. quindi possiamo pesare il nostro zucchero, preparare la nostra acqua, quindi dicevamo 200 grammi per ogni litro, ne mettiamo 2 litri e mezzo e quindi utilizzeremo 500 grammi di zucchero. Aggiungeremo la nostra acqua, 2 litri e mezzo abbiamo detto. Aggiungeremo la nostra acqua, lo zucchero va completamente disciolto. La presenza dello zucchero serve sia da nutrimento per i microrganismi, lieviti e batteri che provengono direttamente dai vegetali, perché i microrganismi sono appunto ubiquitari, sono esseri viventi ubiquitari, vivono dappertutto se noi non li disturbiamo, hanno colonizzato ogni ecosistema terrestre, ogni ecosistema acquatico, ogni ecosistema aereo, li ritroviamo anche sulle nuvole, li ritroviamo negli abissi marini, nelle profondità dei laghi, anche nelle acque termali. Troviamo microrganismi nel suolo e in ogni ambiente appunto di questo nostro pianeta. E chiaramente essendo importantissimi per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, grazie ai microrganismi che anche le piante riescono a prelevare il nutrimento che gli serve dal terreno, quindi sali minerali e l'acqua, di conseguenza i microrganismi e le piante generano proprio delle simbiosi, cioè delle convivenze molto strette e con alcuni batteri addirittura le convivenze diventano talmente strette che i batteri vengono chiamati endofiti, cioè vivono proprio in delle cavità che le radici mettono a disposizione, dei batteri li accolgono proprio e si instaura una relazione così stretta che porta benefici a entrambi, cioè i batteri trovano un ambiente protetto e anche, diciamo, dello zucchero che la pianta provvede a donare ai batteri, visto che attraverso la fotosintesi si produce glucosio e i batteri ricambiano il favore con delle sostanze anche di natura ormonale ma protettive per la pianta che aiuteranno, insomma, la pianta nella sua vita, ad esempio, riescono anche a fissare l'azoto ma non soltanto i cosiddetti batteri diciamo azotofissatori delle leguminose. Anche altre piante possono instaurare simbiosi di questo tipo con i batteri. Dunque, dicevo che i batteri provengono dalle piante quindi noi troviamo lieviti e batteri su tutte le superfici della pianta quindi sulle foglie, sui frutti anche nelle radici e quindi saranno questi a produrre la fermentazione desiderata nel nostro vaso di fermentazione. Non abbiamo bisogno di inoculare con dei batteri che acquistiamo da qualche parte come si fa ad esempio con il lievito di birra con la birra anche se detta artigianale ma i produttori acquistano i lieviti sul mercato non fanno come in Belgio la fermentazione spontanea acquistano dal mercato dei lieviti e utilizzano quelli per la fermentazione del malto d'orzo. Così si fa ormai anche con il vino è difficile trovare una cantina che utilizzi ancora i lieviti per la fermentazione del vino che si trovano appunto sull'uva. Diciamo che l'enologia oggi ha bisogno di maggiore controllo e di standardizzazione dei sapori per cui anche le aziende vinicole oggi acquistano molti prodotti dal mercato insomma tradizionale. Noi invece non abbiamo bisogno di questo scegliamo semplicemente una concentrazione di zucchero che è quella che vi ho detto cioè un rapporto ponderale di 1 a 5 per operare una selezione nel terreno. Cioè noi operando in questo modo scegliamo quali microrganismi potranno continuare a vivere in questo brodo culturale perché qua ce ne sono tantissimi noi non li vogliamo selezionare tutti ma ne vogliamo selezionare alcuni e con questa concentrazione riusciamo a selezionare soltanto quelli che sono appunto tolleranti a concentrazioni così elevate di zucchero quindi si chiamano osmofili perché tollerano elevate concentrazioni di questo soluto che è appunto lo zucchero. E allora una volta che è disciolto perfettamente lo zucchero quindi abbiamo creato un ambiente selettivo particolarmente ostile per i batteri e i lieviti che non sono osmofili possiamo essere pronti a preparare il nostro detergente enzimatico e lo faremo gradualmente man mano che accumuleremo gli scarti nella nostra cucina. Oggi ne abbiamo qui a disposizione perché ci sono stati precedentemente degli altri webinar insomma degli altri show cooking ma normalmente a casa non abbiamo tantissimi scarti tutti in una volta dunque noi possiamo aggiungerli man mano che li formiamo oggi mangiamo le patate sbucciamo quattro patate prendiamo le bucce di queste patate e le mettiamo nel nostro contenitore oggi noi abbiamo le zucchine possiamo tagliarle non in pezzi eccessivamente piccoli non è necessario e man mano che formiamo appunto i nostri scarti che li accumuliamo aggiungiamo i nostri scarti al contenitore abbiamo delle foglie le bucce delle zucchine i gambi del finocchio e quando abbiamo anche del un fusto di cavolo viola in realtà io di cavolo viola consiglio sempre di mettere esclusivamente la parte centrale perché i pigmenti del cavolo potrebbero poi pigmentare poi anche il nostro detergente e quindi limitare nell'uso di questo prodotto che invece vorremmo che nascesse con una possibilità di utilizzo abbastanza ampia quindi i pavimenti il piano della cucina i sanitari in bagno ma anche il bucato e quindi come vi dicevo prima è meglio che sia in colore il prodotto finito dunque non metterei neanche tantissime carote perché contengono carotenoidi metterei invece di più le cose che sono appunto bianche è che non rilasciano pigmenti nell'acqua quando ci fermiamo ci fermiamo quando raggiungiamo poi man mano che noi aggiungiamo i vegetali quelli che aggiungiamo alla fine spingono sul fondo quelli che sono stati messi insomma precedentemente poi noi ci fermiamo quando rimangono più o meno tre dita di ossigeno ogni volta lo richiudiamo il nostro contenitore e poi ogni giorno andiamo ad aggiungere gli scarti che produciamo in cucina quando abbiamo raggiunto ed esaurito quindi lo spazio ci fermiamo possiamo iniziare in un altro contenitore io ad esempio ne ho di molto grandi contenitori quindi tendo ad esaurirli dopo molti mesi insomma perché uso quelli da 100 litri non se ne produce mai abbastanza nel senso che poi l'utilizzo è così variegato diversificato che non abbiamo mai delle scorte inesauribili alla fine tendiamo poi a consumare quello che produciamo quindi io abbondo ne produco molto e quindi è quello che consiglio anche a voi una volta aggiunta l'ultima l'ultima buccia l'ultima foglia mettiamo una data che è relativa proprio al giorno in cui l'abbiamo appunto aggiunto mettiamo una una data e a partire da quella data conteremo più o meno diciamo dai minimo di sei mesi anche se vi sembra troppo questo tempo in realtà è soltanto nella fase iniziale che il periodo è lungo e vi sembra che non passi mai in realtà una volta che avrete iniziato avrete sempre le vostre scorte e di conseguenza ne produrrete sempre di nuovo e una volta trascorsi i primi sei otto mesi non vi mancherà più in casa avrete sempre le vostre scorte che trascorso questo periodo potrete travasare nei vecchi contenitori dei detersivi e utilizzare al momento opportuno si può utilizzare al posto dell'ammorbidente in lavatrice si può utilizzare al posto del detersivo per la lavatrice in associazione ad una pietra pomice che io consiglio di inserire proprio in un vasetto con questo detergente e poi basta semplicemente prelevare la pietra pomice dal suo vasetto e inserirla in un calzino in modo tale da proteggere la pietra perché pur essendo molto abrasiva è tenerissima e rischia di frantumarsi con il cestello della lavatrice non ci sono pericoli per quanto riguarda l'inquinamento la pietra pomice è una pietra a base silicea che non reagisce praticamente con nessun acido ed infatti in natura non esiste un acido tranne quello fluoridrico che possa in qualche modo interagire con la pietra pomice tant'è che viene utilizzata come adsorbente proprio in casi di incidenti con versamento di sostanze chimiche come può essere l'acido solfolico l'acido cloridico e così via non c'è nessuna reazione chimica per cui è una pietra assolutamente inerte come si dice è la stessa natura del vetro tant'è che la polvere di pietra pomice è uno dei proprio degli ingredienti utilizzati per la produzione del vetro quindi la pietra pomice può essere utilizzata in associazione a questo fervida in lavatrice lo chiamiamo fervida perché un neologismo lo chiamiamo fervida arcobaleno e fervida è un neologismo che indica l'unione di due termini fermenti di vita è un termine appunto che è passato nell'uso di tutti gli appassionati di fermentazione e che ancora adesso viene utilizzato sempre di più anche al di fuori del mondo dei fermentatori una volta passato il periodo quindi si può separare la parte liquida dallo scarto vegetale che nel frattempo grazie alla fermentazione è diventato estremamente morbido a volte addirittura diventa proprio una polvere che si deposita sul fondo e non si butta neanche questa questo può essere utilizzato proprio per diluendolo con acqua ovviamente come concime per le piante ed è un concime che è di qualità superiore a tutti i concimi che esistono insomma non solo quelli chimici ma anche quelli naturali perché non solo è ricco di microrganismi vivi ma il tipo di sostanze che i microrganismi riescono quindi a fissare grazie appunto alla loro azione è superiore quindi al contenuto reale di sostanze presenti in questa polvere o comunque nella frutta o nelle verdure e così via ma ad esempio i fermenti diciamo acetici riescono a rinforzare proprio la pianta ad aumentare la capacità di rispondere agli stress sia ambientali che chimici o biologici per cui le piante risultano più forti risultano maggiormente resistenti agli attacchi parassitari più resistenti alla grandine al vento al freddo all'aridità dunque non si butta niente perché vi faccio questo esempio proprio delle piante perché se ad esempio noi utilizziamo questi prodotti nella lavatrice per fare il bucato noi possiamo anziché il tubo di scarico mandarlo nel sistema fognario noi possiamo raccogliere l'acqua e utilizzarla per irrigare questo è un vantaggio enorme perché significa non consumare risorse preziose e quest'acqua essendo arricchita dai microrganismi sarà un'acqua che nutrirà le piante non solo quindi non avvelene il terreno ma servirà a nutrire le piante quindi è un concime anche la parte liquida quello che poi avverrà è che si formeranno anche delle scoby cioè delle quelle che vengono volgarmente chiamate madri sono le comunità simbiotiche create proprio dei lieviti dei batteri in particolare i batteri inizieranno ad un certo punto a secernere una cellulosa cellulosa batterica e con questa molecola costruiranno quella che diventerà proprio la loro vera e propria città nel senso che ci saranno diversi piani anche se no non lo vediamo è un'organizzazione a più livelli e ciascun livello sarà popolato da microrganismi batteri e lieviti e questa cellulosa batterica che ospita microrganismi vivi può essere utilizzata anch'essa come concime ma può essere anche utilizzata per la preparazione ad esempio di quello che io chiamo l'analogo del CIF per esempio il CIF quello che diciamo pulisce senza graffiare lo smalto così veniva presentato il prodotto proprio mescolando la polvere di pietra pomice mi raccomando di non fare questo esercizio senza la mascherina in questo caso è utile perché le polveri di pietra pomice sono l'unico pericolo appunto è quello dell'inalazione chiaramente non è un pericolo che si manifesta subito è un periodo di tempo molto lungo quello che occorre alla pietra pomice per generare patologia in genere relativo ai lavoratori delle cave per esempio tuttavia poiché non sappiamo mai con chi abbiamo a che fare è meglio sempre utilizzare tutti gli accorgimenti utili insomma a non ammalarsi dunque mischiando una pietra pomice alla scobi si ottiene proprio una crema che riesce a pulire perfettamente i sanitari che sono di ceramica senza graffiarli perché la scobi protegge dall'effetto abrasivo della pomice ma togliendo proprio anche le parti di calcare e anche di ruggine che si formano ad esempio nelle case al mare capitava un tempo che si formassero proprio delle macchie di ruggine sui sanitari e questo era dovuto ai vecchi sistemi dei vecchi impianti idraulici e anche in quel caso proprio vengono via le macchie di ruggine oppure anche il calcare quando è molto abbondante sono degli anticalcare eccellenti questi prodotti creati a partire semplicemente da zucchero acqua e scarti perché sono così efficaci perché producono acido acetico l'acido acetico è un acido è un acido debole ma ha una piccola capacità insomma di attaccare lo sporco e vorrei tranquillizzarvi circa l'uso appunto dell'acido acetico poiché corrono delle voci che sono infondate sulla presunta pericolosità dell'aceto per le pulizie addirittura insomma ci sono delle persone che ritengono che possa corrodere il cestello della lavatrice o altre parti metalliche della lavatrice questo è assolutamente inesatto l'acido acetico è molto più debole dell'acido citrico che già viene utilizzato nella nella casa per l'igiene della casa in lavatrice per i pavimenti l'acido acetico è molto più debole dell'acido citrico quindi meno corrosivo ma questo lo dice non soltanto la tabella proprio ufficiale della forza degli acidi ma ci sono degli articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate quindi di settore che mettono a confronto l'acido acetico e l'acido citrico come eventuali additivi alimentari acidificanti è l'impatto che potrebbero avere sulle scatole le latte metalliche adesso si tratta di un problema quasi inesistente perché ormai tutte le latte metalliche che vengono utilizzate per la conservazione degli alimenti sono schermate hanno una barriera un film di materiale plastico quindi non c'è mai il contatto dell'alimento con l'alluminio ma un tempo questo era un problema assai serio e chi consumava molti cibi in scatola era soggetto ad accumulare alluminio che adesso è considerato come uno dei responsabili di malattie degenerative gravi come il morbo di alzheimer per cui c'è un'attenzione maggiore comunque tutta la letteratura scientifica precedente è disponibile e tutti gli esperimenti hanno dimostrato che l'acido citrico è più corrosivo dell'acido acetico e che dunque i rischi sarebbero maggiori con l'utilizzo dell'acido citrico e non con l'acido acetico io chiaramente non ho il tempo qui per dimostrarvi quello che sto dicendo ma sono disponibile sempre a mostrarvi gli articoli scientifici a darvi tutte le indicazioni insomma che confermano quanto io sto appunto affermando adesso quello di cui posso in questo momento proprio rassicurarvi è che non vi è alcun pericolo nell'utilizzo né dell'acido acetico prodotto durante questo tipo di fermentazione e neanche della pietra pomice che è un materiale veramente inerte che non reagisce con i nostri microrganismi anzi la pietra pomice probabilmente è stato uno dei primi supporti grazie alla sua porosità che ha potuto permettere proprio la nascita della vita perché tutti lo sappiamo ci siamo evoluti nell'acqua e nell'acqua che sia di fiume che sia dell'oceano o di un mare più piccolo il vento le correnti possono trasportare via i microrganismi che hanno bisogno invece di una certa stabilità per poter proliferare anche per incontrarsi tra di loro scambiare informazioni creare delle comunità stabili e i microrganismi lo hanno fatto sempre cercando proprio dei supporti a cui ancorarsi e la pietra pomice è molto probabilmente uno dei primi supporti perché garantisce una superficie molto porosa e allo stesso tempo anche molto solida dunque il diciamo il primo passaggio è quello che vi ho mostrato poi con il liquido che noi preleviamo possiamo ottenere attraverso ulteriori passaggi molto semplici possiamo ottenere prodotti molto più versatili non solo quindi il CIF come vi dicevo io mischiando con appunto la SCOBI con la pietra pomice ma anche prodotti molto più versatili come il detersivo per i piatti ad esempio una cosa che ho notato una cosa che ho notato quando parlo con le persone appunto che usano i prodotti naturali che vorrebbero utilizzare i prodotti naturali è quello di trovare degli equivalenti che in qualche modo ricordino non soltanto nell'efficacia ma anche nell'aspetto ricordino i prodotti della grande distribuzione quindi un fattore determinante è la schiuma la produzione della schiuma quando si lavano i piatti si vuole vedere la schiuma e dunque per ottenere la schiuma da un prodotto che di base non ha schiuma è molto semplice si può in una fase successiva una volta prelevato unire delle piante che contengono saponine naturali e non sono soltanto le noci del sapone ma abbiamo delle piante autoctone che contengono moltissime saponine per esempio l'edera che è considerata una pianta infestante tutti quanti amano liberarsi dell'edera si fanno frequenti potature e l'edera è una pianta che può essere utilizzata proprio per estrarre queste saponine che poi possono essere utilizzate per la produzione del detergente per i piatti ad esempio oppure anche per uno shampoo perché molti appunto vogliono vedere la schiuma anche quando lavano i propri capelli altre piante locali contenenti saponine sono ad esempio le cosiddette castagne matte che sono le castagne che vengono prodotte dal lippocastano quindi castagne che normalmente non sono utilizzate per l'alimentazione ma che hanno una grandissima utilità proprio per la preparazione del ad esempio del detersivo dei piatti proprio la castagna cioè la parte interna quindi quella ricca di amido per intenderci quella bianca quindi la parte interna essiccata polverizzata può essere aggiunta alla parte liquida e lasciandola ovviamente a macerare per diversi giorni si ottiene un prodotto che crea schiuma dunque mi piace parlare di questo tipo di fermentazione perché oltre ad essere molto semplice è estremamente versatile ci permette di ottenere tutto quello di cui abbiamo bisogno in casa dall'anticalcare al detersivo appunto per la lavatrice l'ammorbidente il detergente per i piatti ma anche con le scopi possiamo produrre creme per il viso il detergente per il corpo tutto quello che abbiamo bisogno anche per la cura della persona ma anche la pomada per i dolori articolari per esempio è un'ottima base la scopi di questa comunità simbiotica perché di per sé ha già un'azione antinfiammatoria ma unita a quella ad esempio delle piante medicinali diventa un prodotto che riesce a disinfiammare in tempi molto brevi cioè ci sono persone che proprio affermano di aver avuto dei benefici talmente rapidi da essere paragonati alle pomate quelle diciamo contenenti principi attivi di sintesi per intenderci il Voltaren queste pomate insomma patch che vengono utilizzati da chi soffre di queste patologie dunque si tratta di un mondo che potenzialmente non ha limiti nel senso che possiamo applicare queste conoscenze ad ogni ambito della nostra esistenza dalla appunto dalla produzione di farmaci anche a quella di detersivi prodotti per la casa o igiene della persona ma appunto le possibilità di intervento sono pressoché limitate dall'agricoltura appunto alla detergenza personale alla fitoterapia possiamo veramente sbizzarrirci con la consapevolezza di non produrre mai delle sostanze tossiche che possono andare ad inquinare i terreni ma anzi che arricchiscono il suolo di componente microbiche importante e di sostanze importantissime che derivano proprio dalla fermentazione tenete conto che qualunque sostanza anche dal pesticida al diserbante insomma all'antiparassitario antimicotico nematocida e così via può essere preparato a partire da questa semplice tecnica di fermentazione scarti di cucina zucchero e acqua credo di essere pronta adesso alle domande io sono stupefatta mi sono mi ha incantata non so il pubblico qui ma ti ho ascoltato tanto sono affascinata da tutto quello che hai detto e sicuramente anche da casa è stata percepita questa cosa grazie finalmente diciamo che è stato un intervento non che gli altri non siano stati però in giro si sentono dire tante cose senza avere mai spiegazioni dettagliate scientifiche a riguardo tu invece sei partita dagli albori e ci hai spiegato l'abc di tutto quello che in quel barattolo è presente quindi ti ringrazio per la trasparenza e ti riporto anche un messaggio bellissimo che è arrivato dai telespettatori a casa che la speranza del futuro con persone del calibro della dottoressa non è vana grazie è fantastica e io condivido perché è stato illuminante ma sono arrivate anche le fantastiche domande tra cui un paio le avevo anche io nella mia testa e colgo l'occasione per farti innanzitutto partiamo dal barattolo dal contenitore dove noi andremo a realizzare questo ecodetergente chiedono se il barattolo deve restare chiuso per tutti i mesi di fermentazione o va aperto e mescolato di tanto in tanto allora intanto è un un contenitore questo che non ha una vera e propria chiusura ermetica è un contenitore di plastica io in genere uso la plastica solo per il campo detergenti e uso il vetro invece per tutto quello che è l'applicazione poi sull'essere umano ma anche sugli animali ad esempio il repellente per zecche o pulci io lo preparo con fermenti che passano la loro vita nel vetro e così anche gli equivalenti naturali dei farmaci quelli più comuni di recente ho preparato ad esempio la cosiddetta vivinci sarebbe l'aspirina con l'aggiunta di vitamina C utilizzando delle piante ricche di acido salicilico quindi il salice bianco l'aspireo il mare e così via quindi la fermentazione degli scarti di cucina ci obbliga quasi sempre ad aprire il contenitore se non tutti i giorni ma un giorno sì ed uno no e se non lo fate un giorno sì ed uno no significa che non mangiate bene perché le verdure dovrebbero far parte dell'alimentazione quotidiana quindi almeno una volta al giorno dovreste avere degli scarti di cucina da poter inserire nel vostro bidone di fermentazione dunque lo aprite già ogni giorno quello che io vi posso consigliare è quando aprite il contenitore e inserite i nuovi scarti di fare in modo che siano bagnati perché se la linea di galleggiamento ovviamente porta i vegetali a stare molto al di fuori della superficie di interfaccia significa che le muffe potrebbero aggredire gli ortaggi prima ancora che riescono a farle i batteri perché i batteri stanno nella parte liquida invece le spore delle muffe riescono a stare ovunque nel contenitore quindi il mio consiglio è quello di inumidire sempre i vegetali più grande il contenitore meno difficoltà di fermentazione ci sono questo e eventualmente si possono usare anche scarti derivati dalla frutta sì 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 l'unica cosa che io lo rammento ancora una volta è di non utilizzare frutta colorata ad esempio le arance per intenderci sono rilasciano un po' di carotenoidi e colorano l'acqua ora se voi ad esempio voleste utilizzare questo ecodetergente esclusivamente per eliminare il calcare dal box doccia che ci sia uno spray un po' diciamo arancione non è un problema perché poi chiaramente passate il 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 panno per asciugare e non rimane traccia dell'arancione se invece volete utilizzarlo come ammorbidente chiaramente non non potete permettervi di ottenere un ecodetergente che abbia il colore della barbabietola rossa quindi state attenti alla scelta dei frutti che utilizzate o degli ortaggi insomma questo è importante per il resto potete utilizzare tutto poi esistono anche dei metodi per sbiancare completamente un fermento che è stato preparato anche con la barbabietola però è un'energia sprecata insomma non ha senso utilizzare del tempo e dei materiali per operare una trasformazione che si può fare tranquillamente in modo semplice questo lo dico perché nel futuro è possibile che si debba proprio fare economia su tante cose e che sia preferibile utilizzare tutto quello che c'è in un raggio assai breve insomma attorno alle nostre abitazioni c'è una domanda dal pubblico qui a Cesena proviamo a ripeterla dopo che lo devo dire al microfono perché sennò da casa non ci sentono a che temperatura deve essere preparata la base giusto? ok allora il vantaggio è che noi utilizzando degli ortaggi che nella migliore delle ipotesi crescono alle nostre latitudini quindi con qualunque clima il cavolo d'inverno la melanzana o il insomma in estate la carota primavera e così via i batteri che vivono in simbiosi con le piante sono dei batteri che tollerano le stesse temperature alle quali sono cresciute le piante e che quindi nella fermentazione saranno tolleranti alle temperature che sono quelle proprio delle nostre stagioni quindi riescono ad arrivare a tollerare anche temperature superiori ai 40 gradi d'estate e viceversa a tollerare temperature prossime allo zero e anche a volte sotto lo zero se i contenitori sono molto grandi quindi riescono a sopravvivere perché sono gli stessi che normalmente vivono nel nostro ambiente quindi non dobbiamo né scaldare d'inverno né raffreddare d'estate si chiamano mesofili qual è deve essere la proporzione tra il liquido e il liquido andiamo ad occhio calcoliamo più o meno metà del contenitore con la soluzione di acqua e zucchero lo zucchero sappiamo invece essere nella proporzione di una 5 con l'acqua quindi in funzione del contenitore qui questo è un esempio è piccolino ma io vi consiglio proprio di utilizzare dei contenitori molto grandi perché una volta che veramente partite con questa esperienza che è un'esperienza di vita non è soltanto una tecnica di autoproduzione è proprio un'esperienza di vita che la vita veramente ve la cambia ve la cambia perché piano piano riuscirete a sviluppare quella consapevolezza che il vostro ruolo diventa importante che ciascuno di voi conta che è qualcosa che non è un numero e che con le sue azioni può veramente incidere sulle sorti del pianeta e ve ne accorgete perché se piano piano utilizzate i vostri fermenti per fare il bucato e quell'acqua poi la utilizzate per irrigare le vostre piante vi accorgerete proprio di quanto bene faccia questo prodotto alle piante chiaramente opportunamente diluito e così via e quando lavate un pavimento con la consapevolezza che non state utilizzando un detersivo con l'antibiotico come le pubblicità promuovono gli spot ci dicono uccide il 99,9% dei batteri questa uccisione del 99,9% dei batteri è controproducente noi non dobbiamo uccidere i batteri noi dobbiamo convivere pacificamente e quindi permettere che i batteri che sono benefici si sviluppino nell'ambiente intorno a noi e che siano loro poi a tenere a bada gli eventuali potenziali patogeni dunque la consapevolezza di lavare un pavimento con un prodotto che pur non uccidendo il 99,9% dei batteri ha nei confronti dei patogeni delle caratteristiche antibiotiche superiori ai sali di ammonio quaternario che vengono utilizzati per intenderci nelle sale operatorie vi permette di sentirvi veramente in pace con la vostra coscienza sapendo di aver fatto il meglio proprio per l'igiene della casa perché se un paziente immunodepresso si trova a sostare in un ambiente ospedaliero in cui lì si utilizzano appunto dei detergenti molto aggressivi che è vero che uccidono i batteri ma attraverso questa forte pressione selettiva spingono anche i batteri a trovare delle strategie proprio di resistenza e quindi si sviluppano le antibiotiche ecoresistenze invece detergendo con questo tipo di ecodetergenti voi sarete sicuri di fare il meglio proprio di poter far sostare un paziente immunodepresso in un ambiente lavato così senza che corra il rischio di sviluppare una polmonite da da un batterio diciamo super resistente per cui non esiste quasi più l'antibiotico giusto c'è stato questo allarme lanciato qualche anno fa a Londra durante un convegno di esperti microbiologi medici da tutto il mondo e l'allarme è stato proprio questo che entro il 2050 i batteri saranno la prima causa di morte in Europa e l'Italia purtroppo ha un triste primato è il primo paese la prima nazione europea per numero di morti da infezioni ospedaliere noi da soli abbiamo diciamo circa il 40% di tutti i morti in Europa per infezioni da batteri super resistenti ho un annuncio da fare poi dopo ti faccio le domande però mi è arrivata adesso bisogna fare spostare le macchine dal parcheggio riservato davanti alla farmacia se qualcuno ha le macchine davanti al parcheggio della farmacia qui a lato è necessario spostarle causa rimozione forzata altrimenti detto questo torniamo a noi una domanda molto interessante anzi due legate alla lavatrice la prima è se vogliamo utilizzare questo ecodertergente in lavatrice quali temperature occorre osservare e la seconda te le faccio tutte e due insieme che così prendiamo due piccioni con una fava se poi uso l'acqua del risciacquo della lavatrice che suppongo sia quello del bucato più che della lavatrice in sé per sé per irrigare il terreno se i capi perdono il colore non si va ad inquinare il terreno stesso se colorati eccetera ma infatti diciamo che a proposito di approccio sistemico torno un attimo indietro quando sono stata presentata come una biologa molecolare che ormai ha dedicato la vita all'approccio sistemico vorrei spiegare un attimo queste due queste due parole approccio sistemico e poi rispondere alla domanda sui colori e sui tessuti anche approccio sistemico è un termine tecnico per indicare quello che comunemente si chiama olistico approccio olistico quindi è un approccio che tiene conto di tutti i fenomeni naturali che sono interconnessi cioè una interdipendenza di tutti i fenomeni è una connessione tra tutti gli organismi viventi ma anche tra gli organismi viventi e la materia abiotica materia abiotica significa la materia inorganica quella che fa parte proprio della componente minerale del nostro pianeta l'acqua è una componente abiotica ma è necessaria alla vita quindi senza acqua non ci può essere vita senza ossigeno non ci può essere vita perlomeno non la vita che si è sviluppata dopo la diffusione dell'ossigeno nella nostra atmosfera dunque avere un approccio sistemico significa tenere conto di tutte queste interrelazioni di non di non ragionare in termini meccanicistici ma di espandere la propria coscienza oltre che oltre che i propri studi di espandere la propria coscienza e cercare proprio queste connessioni cercare di connettere ogni fenomeno all'altro cercare di non risolvere un problema senza pensare alle conseguenze che ogni nostro gesto può provocare su tutti gli altri organismi negli ecosistemi quindi ragionare in modo sistemico significa tenere conto di tutti i parametri possibili e di non trascurarne nessuno per tornare quindi alla domanda che è stata posta da qui o da casa non lo so è chiaro che utilizzare degli ecodetergenti e poi continuare ad acquistare prodotti diciamo tessuti vestiti tessuti sintetici dalla dalla Cina dico un nome così a caso ci fa ci porta lontano da quell'approccio sistemico che ci vorrebbe invece impegnati alla non dico proprio all'autoproduzione come facevano le nostre bisnonne acquistando il lino il cotone insomma da chi lo produceva e poi o la canapa come si usava un tempo ma quantomeno se non proprio riusciamo ad autoprodurre quantomeno possiamo scegliere delle aziende che fanno ancora dei capi in maniera naturale che utilizzano coloranti naturali che non gravino poi sui nostri terreni perché è chiaro non soltanto il colore che viene rilasciato anche in modo impercettibile ogni volta è accompagnato anche dalle microfibre dei tessuti e se noi poi quest'acqua contaminata la utilizziamo per i terreni è chiaro che metteremo nel terreno il nylon piuttosto che il cosa si usa adesso la stam insomma ci sono tutte queste fibre sintetiche che rilasciano appunto minuscole particelle vengono chiamate appunto microfibre e le rilasciano nell'acqua e poi di conseguenza nei terreni quindi chiaramente sì se vogliamo diciamo operare anche noi a ciclo chiuso come fanno gli animali e le piante dobbiamo anche noi ragionare in termini più ampi e considerare non soltanto il tipo di detersivo che utilizziamo ma anche con quali capi siamo soliti appunto andare in giro vestirci e così via bene io ti ringrazio infinitamente per questo splendido intervento penso che abbia arricchito veramente tutti ma prima di lasciarti e di salutarti vorrei ricordare ai nostri ospiti qui presenti da casa magari i tuoi contatti dove ti possono rintracciare su facebook un profilo instagram una mail qualche cosa insomma in tutti questi in tutti i luoghi in tutti i luoghi io sono su instagram come ferment academy che è il appunto questo percorso di formazione che però non è orientato soltanto all'apprendimento delle tecniche mi piace sottolinearlo perché le tecniche ormai si possono apprendere anche guardando un webinar o acquistando un libro qui alla macro troverete tantissimi libri sulle fermentazioni sono tutti utilissimi non nego la loro importanza però la ferment academy è qualcosa diciamo che va oltre la semplice descrizione delle tecniche ma che vuole dare proprio non soltanto la speranza di cui ho parlato all'inizio ma anche nuovi modelli nuovi modi di stare insieme mi piace la parola fermentazione sociale perché dà la misura di quello che vuol dire impegnarsi lì dove siamo dove ognuno di noi è per fare in modo che non fermentino soltanto zucchero insomma con l'aiuto dei microrganismi ma che siamo noi stessi a portare un po' come il lievito madre fa a portare le nostre conoscenze a tutti quelli che conosciamo quindi ferment academy è su instagram in facebook col mio nome ho un profilo personale e anche una pagina ho un sito che è sempre ferment academy un sito internet e quindi insomma poi ho per ogni tipo di contatto ti possono trovare su queste piattaforme o come carmen ruail o come ferment academy se non la trovate cercate noi di macro librarsi che ve la indichiamo molto più che volentieri io carmen ti ringrazio è stato bellissimo e spero di che tu ci venga ancora a trovare spero di ritrovarti in altre occasioni che non siano per forza solo lo sciocco ci incontreremo sicuramente di nuovo io intanto ringrazio questo qua lo regalo lo regalo a qualcuno qua dietro così va bene e vai almeno qualche gioia oggi grazie a tutti io passo la parola alla mia collega Francesca che è in giro per la festa ci vediamo fra una ventina di minuti con Aurora Zancanaro faremo il pane grazie a tutti grazie a tutti